Buttati dentro nella diretta, dai, buttati dentro diretto Lello, alzati su Oh, Lello, su, dammi una mano Vai su un po' di musica Di volume? Eh, vai su un po' di volume, ragazzi Sono passati i 400 anni, noi vi stiamo aspettando, però se non venite Ah, chi? Qual'idea del film, no? Ricordate di noi Lello, dici che si ricordano di noi Lui è il DJ, eh? No, no, gli occhiali sono di mia mamma, però Lui è il paniente, gli occhiali della mamma Perché non ci vedo più Saluti anche la mamma, ciao Che vedo più